Ciao, sono Benigno e sono un medico. Oggi ti dirò tutto quello che devi sapere su Insulinorm prima di acquistare questo prodotto. Dopo che molte persone sui social network mi hanno chiesto informazioni su Insulinorm, ho deciso di registrare questo video e di approfondire la ricerca, quindi ho due avvisi molto importanti quindi presta molta attenzione a quello che ho da dirti. La prima cosa da sapere su Insulinorm è di fare attenzione al sito web dove si acquista il prodotto, perché Insulinorm è venduto solo sul sito ufficiale e per aiutarvi ho lasciato il link di sconto al sito ufficiale qui sotto nella descrizione di questo video in modo che possiate accedervi sicuramente. Vi starete chiedendo che cos'è Insulinorm e se funziona davvero. La risposta è sì, con Insulinorm regolare, i pazienti iniziano a sentirsi meglio in qualsiasi momento della giornata, anche dopo aver mangiato. Non hanno più sete, non hanno più prurito e non hanno più la pelle secca. L'alito cattivo scompare. Se parliamo di indicatori fisici, si osserva una diminuzione del livello di emoglobina licosilata, una diminuzione della concentrazione di zucchero e acetone nelle urine, Insulinorm non solo riduce la licemia, ma ne impedisce anche l'aumento. Senza un eccesso di zuccheri, le pareti dei vasi sanguigni si espandono e si contraggono liberamente. Di conseguenza, la debolezza e la sonnolenza scompaiono, le ferite, i tagli e le contusioni guariscono più rapidamente. Anche i problemi visivi più gravi iniziano a risolversi gradualmente. Ciò che i miei pazienti hanno visto prima attraverso la nebbia diventa chiaro e limpido, e molti diabetici non hanno abbastanza energia. Una delle proprietà interessanti delle capsule di Insulinorm è il ritorno a una vita più energica. Gradualmente, la pelle danneggiata viene ripristinata e le ulcere guariscono. L'effetto di Insulinorm è simile al battito d'ali di una farfalla, innesca una reazione a catena di guarigione degli organi interni e di miglioramento generale della salute. Poiché è uno dei prodotti più venduti, Insulinorm è stato utilizzato da migliaia di persone in tutto il mondo e nessuno ha lamentato effetti collaterali. Per ottenere ottimi risultati con Insulinorm, è necessario assumere una sola compressa al giorno per almeno un mese, accompagnata da un bicchiere d'acqua dopo i pasti. Un'altra cosa importante da sapere è che Insulinorm non ha assolutamente effetti collaterali, in quanto i suoi ingredienti sono naturali al 100% e la cosa più importante è che non dovete preoccuparvi, perché è destinato a persone di tutte le età, quindi chiunque può usare Insulinorm. Spero che questo video sia stato utile e se avete domande potete lasciarle in un commento qui sotto e sarò lieto di aiutarvi, ricordate che se volete acquistare Insulinorm con uno sconto speciale come ho detto lascerò il link al sito ufficiale qui sotto nella descrizione del video. Grazie per aver guardato fino a questo punto, spero di avervi aiutato! A dopo!